bello a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo video della retro craft signori miei noi siamo precisamente dove siamo fermati l'altro volta ovvero all'interno della fortezza del nether allora cambiamo l'inquadratura e non perdiamo assolutamente tempo sbagliato 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 ok e non perdiamo tempo allora leviamo la terra che avevo messo a protezione raga perché siamo rimasti qua dentro da non so quanto tempo e allora io non ricordo assolutamente una cippa di nulla noi abbiamo una spada completamente distrutta ricordo che qui c'erano delle blaze allora sotto c'è una blaze qui c'è una torre erano saliti da qua sopra noi raga che non mi ricordo no mi sembra del polsana no 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 non ci provare sai non ci provare mannaggia a te devi smetterla ok intanto si bagga e cammina per i fatti suoi di qua c'è un'apertura di qua mi sa che non ci sta nulla può essere no mettiamo la torcia però per indicare che di qua sto vomitando sto vomitando sto vomitando sto vomitando sto vomitando fermi col mouse diventa di lazio diventa di la semplice tranquillo stavo vomitando stavo minando allora spada in mano anche se più che la spada dovrà serviccio l'arco sicuramente alla la città delle blaze di qua ci siamo andati di qua ci siamo andati no ma non c'era nulla bello così che gran fortezza inutile che abbiamo trovato raga che gran fortezza inutile di qua ci siamo andati no andiamo di qua signori qua c'è il balcone il belvedere che c'è stato e qua niente il dirupo praticamente comunque noto con bellezza che nella versione 1.0 nel nether non c'era assolutamente un tubo di niente signori miei non ci stanno né i wither non ci stanno le casse nella fortezza perché non ho trovato nemmeno una non ci stanno alla di là è despaunata la blaze è despaunata andiamo da quella parte torniamo da quel lato signor mi abbiamo visto che da questa parte non c'è niente di qua c'è il modo sponder ma l'abbiamo bloccato no si qua più o meno è bloccato mettiamo qualche altra torcia per sé per no perché non vorrei trovarmi delle altre blaze grazie o una blaze rotto interessante allora sempre con il nostro bellissimo arco affrontiamo di qua forse noi veniamo andiamo da questa parte signori che paranoia signori miei il discorso delle torce nel spawner funziona come che posso dire la l'aspirina con la febbre a 38 praticamente non serve assolutamente a una cippa di nulla cos'è quella luce vedo la luce in fondo al tunnel signori miei vedo la luce in fondo al tunnel niente è della semplice glowstone sì dell'aluminite va bene dell'aluminite che ci segnala però il passaggio in una nuova zona della fortezza in cui non c'è assolutamente una cippa di nulla non è che per se per caso scavo qui continua la fortezza no non continua assolutamente una cippa una cippa ok recuperiamo un altro poco di l'aluminite il tempo che possiamo passare e con piacere noto che non c'è un cacchio dopo la l'aluminite ma che bella fortezza inutile abbiamo trovato raga e recuperiamo un altro poco di glowstone signori di l'aluminite 46 va bene e noi veniamo di qua non ci sta manco nulla mettiamo una torcia per dire che di qua ci siamo passati mettiamo una torcia per di qua per dire che ci siamo passati e torniamo indietro raga cerchiamo nuove strade cerchiamo nuove strade ok ragazzoli allora noi siamo venuti da questa parte di qua che ricorda abbiamo rotto l'aluminite andiamo di qua anche se penso che non ci sia nient'altro neanche niente in questa direzione praticamente continuiamo le nostre esplorazioni il nostro uomo esploratore non si fermò davanti ai primi imprevisti ma andò avanti allora là ci sono i pigmen quella è la strada che abbiamo fatto noi i pigmen quindi c'ho pigmen di qua sembra esserci altra strada raga altra strada vediamo 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 non fermiamoci davanti ai primi imprevisti dei pigmen destra sinistra destra o si destra sinistra destra sinistra sinistra andiamo da qua andiamo da qua torcia all'incrocio allora di qua si apre il mondo ok ma non c'è ma non mi sembra che ci sia niente ma la fortezza continua la fortezza con di avere che c'è stato all'altro lato raga altra incrocio raga altra incrocio con altro spondi blades madonna mia quante quanti spondi blaze ci sono nella versione cioè non avevo un altro che mettere in questa versione minecraft solamente spondi blades c'è che non ce n'è nemmeno uno che siamo pieni signori miei sì allora di qua mi sa che non ci sta nulla quindi torcetta abbiamo capito che di qua non ci sta nulla di la vedo forse una torcia lontananza non lo so allora continuiamo l'esplorazione continuiamo l'esplorazione anche se non sto trovando una cippa di nulla signori miei una cippa di nulla niente stiamo tornando indietro raga perché non ho trovato niente sentite il sottofondo musicale ragazzi sentite questo pianoforte io immagino un tizio cubico che cammina nel nether un posto infestato da mostri seguito da un uomo con un pianoforte che suona queste note per tenerci lieti le ore di investigazione di ricerca in questo mondo sperduto ok ok va bene dove siamo andati noi di qua adesso sinistra adesso sinistra siamo andati di qua è perfetto va bene io avevo visto un'altra cosa interessante però non mi ricordo dove no ecco qua ecco qua avevo visto quest'altra scaletta quest'altra scaletta saliamo 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 e arriviamo in un punto in cui non c'è un tubo bello così ma che gran bella che gran bella fortezza signori miei proviamo uscire verso l'alto vediamo se troviamo qualcosa di interessante ci saranno uscita verso l'alto non c'è manco luce manco la presa d'aria c'è in questa stanza bella così bella così ok raga dopo mezz'ora di giro e rigiro ho ritrovato il punto da cui eravamo arrivati forse sì ok e ho recuperato assolutamente nulla non ho recuperato niente raga dobbiamo solente riuscire a trovare la strada per ritornare a casa e non la vedo per niente una cosa facile allora di qua c'erano passati niente mi aspettavo molto più divertimento nella fortezza molto più qualcosa da trovare invece non abbiamo trovato assolutamente nulla di qua c'erano saliti vero e non c'era niente né a destra né a sinistra vabbè a sinistra destra ho cambiato le direzioni di qua non c'è nulla allora noi venivamo da qua le sabbie queste dobbiamo prenderle dopo le piantiamo a casa di qua ok si ci siamo ci siamo ci siamo stiamo tornando verso casa raga stiamo tornando verso casa ora se non ricordo male noi siamo scesi infatti la cella della terra risaliamo no non cascare non cascare bravo così saliti qui sali 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 e andiamo di qui vai vai veloce come il vento veloce come il vento sicuramente sono tutti uguali raga sti corridoi sono tutti uguali e mezz'ora che torno indietro vado avanti no di qua da dove siamo venuti no si di qua da dove sono venuto mi sono perso raga mi sono perso mi sono perso ma mannaggia di una miseria proviamo andare dritto di qua da qualche parte usceremo raga da qualche parte sento che l'uscita è vicina sento che l'uscita è vicina ma non so dove si aspettate aspettate qui 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 forse ci siamo qui forse ci siamo no noi dobbiamo andare la dobbiamo andare la zio devi andare la ci siamo ci siamo ci siamo di qua ci siamo andati vedo una torcia che sicuramente non avremo trovato nulla vediamo di riuscire a tornare voglio tornare a casa voglio tornare a casa non ci voglio più stare qui là ci sono dei pigmen che fanno una festa un gast gastino gastetto gastino che mamma mia che urlo che ha buttato dove c'ha poi avviciniamoci 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 zio devi correre devi correre zio devi correre e di qua che noi siamo venuti sì sì se noi siamo venuti forse da da quel ponte più alto da quel ponte più alto siamo arrivati noi raga può essere se se decisamente si passiamo di qua la fortezza continua può essere qui la fortezza continua e nessuno mi ha detto niente qui la fortezza continua e nessuno mi ha detto niente assolutamente no è un blocco che per prendermi in giro è un blocco per prendermi in giro complimenti sono riuscito a prendermi in giro speravo che ci possa chissà che cosa invece non c'è una cippa di nulla quanti blocchi stiamo portando a casa però interessante e cosa ce ne ne facciamo di questi blocchi ok calma siamo in sicurezza siamo in sicurezza non tosta il gas castino perché mi ha sparato ed è sparito scusatemi ma ma perché ma sono ciecato io raga cioè io ero qui ah è là sotto il gas e come te ciappo se vabbè se mi ciappi ma ha ciappato ragazzi ho temuto di essere caduto nella lava non voi non potete capire quanto meso fatto la marmellata addosso pensavo di essere caduto nella lava ragazzi sarebbe stata una conclusione bellissima di livello con me che cascavo nella lava guardate fantastico veramente allora riusciamo a risalire un attimino grazie mannaggia a me guarda se cascavo se cascavo che cos'è che mi blocca se cascavo riesce a saltare si dai 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 occhio a fuoco bravo così se cascavo nella lava ridevamo forte va beh il gas si sta andando a fare i suoi torniamo anche noi a casa nostra a farci gli affari nostri ragazzoli niente questo questo nether un po così un po così mi aspettavo molto 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 più divertimento invece è stato un po un po fracco un po fracco sinceramente portiamoci tutta questa soul sand o meglio sabbia del deserto ecco un altro gas che cena a fare compagnia grazie gentilissimo tu la sorchie che sta spara no 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 mi sembra mi sembra del pupino raga mi sembra del pupino ok dove se no 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 siamo in un punto pericolosissimo raga siamo in un punto pericolosissimo aia aia giuro che appena mi giro ti ciappo male appena mi giro ti ciappo male zio appena mi giro ti ciappo male guarda 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 con che nonchalance ci sta rompendo le scatole perché questi urli infernali e poi sparito dico io mi fa qua allora io quanta 11 11 netherrack e 12 pezzi di sabbia del deserto delle anime come come cavolo si chiama non mi ricordo allora seguiamo le ma le lacrime una lacrima l'ho presa no non ho preso nemmeno una lacrima no aspettate raga dobbiamo prendere una lacrima dobbiamo riuscire a portarci a casa una lacrima quantomeno una lacrima di casta me la devo portare a casa raga torniamo alla battaglia torniamo alla battaglia eccoci eccoci pronti alla guerra pronti alla guerra dai dai uccidilo 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 porca miseria si dai 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 l'ho visto no la glowstone del si della polvere da sparo dell'esperienza una granchima abbiamo preso la lacrima raga lacrima di casta l'abbiamo presa bella così bella così torniamoci velocemente a casa via via vite vite raga vite vite al portale velocemente raga piccolo appunto per non sapere né leggere né scrivere me sto anche per prendere un bel secchio di lava per non sapere né leggere né scrivere raga non so cosa mi può servire però sinceramente vorrei tornarci l'ultimo meno possibile qui nel nether anche perché non ci sta nulla non c'è sta no 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 sono tutto scemo sotto mi si è buggato il personaggio mentre camminavo ma ve ne rendete conto dai dai non mi mollare zio non mi mollare zio non mi mollare ti prego corri 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 che ti spegni corri che ti spegni non mi mollare zio non mi mollare zio zio no no mamma che ce la siamo vista brutta raga mamma che mi stavo avvicinando alla lava e mi si è buggato il personaggio si è andato a tuffare nella lava ora ve ne rendete conto di di quanto è scemo il mio personaggio ok questa l'abbiamo recuperato recuperiamo anche la crafting table non so cosa mi può servire il secchio di lava raga però meglio dire che ce l'ho che dire che non ce l'ho allora al portale signori miei eccolo qua il nostro bellissimo portale raga eccolo qua eccolo qua torniamo velocemente a casa ecco si è buggato che deve saltare mi sembra normale ma c'ho il pupino pazzo c'ho il pupino pazzo signori miei oh siamo tornati a casa signori miei cosa mi ha smettendo di saltare mannaggia ora deve camminare ora si è buggato che deve camminare oh ok buongiorno cosa mi sono perso in tutto questo cosa è successo allora abbiamo l'anno è cresciuto un tubo perfetto le canne d'azzucco sono cresciute va bene ragazzoli allora facciamo solamente una piccolissima cosa una piccolissima cosa tanto per abbellire il nostro orto 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 e 12 perfetto abbelliamo il nostro orto con la soul sand signori miei non so se può crescere nel in mezzo alla neve la soul sand però non ha non ha importanza non ha importanza noi la piantiamo lo stesso mettimi della terra qua a giro che sta carino così non sopra brutto scemo a giro così bello che carino e poi al centro ci metti tutte le verruche le verruche zio bello così a posto che carino il nostro giardino il nostro giardino sta venendo molto carino davvero ne ho nemmeno va bene detto questo ragazzo io vi ringrazio per partecipato a questo video vi ringrazio per i like per i commenti e per i suggerimenti che mi darete per una prossima situazione nel prossimo video magari cercheremo di iniziare a raccogliere un po di ender pearl per andare a cercare la fortezza del drago detto questo ragazzoli grazie per la visione noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto bella raga ciao ciao